personale, ma di fronte a un premio Nobel ho pensato che la cosa migliore per me sia usare le parole stesse dell'Ernoux, cioè quanto ha detto a Marco Missiroli del Corriere della sera che la intervistava a proposito del ruolo della letteratura nel 2016, quindi quando il Nobel non c'era ancora. Cito, deve sbarazzarci delle ombre e mettere via un po' di vita salvandoci dalla sparizione futura e già questa è salvezza. Non voglio concentrarmi su una fede, non voglio strizzare l'occhio al lettore, non posso concepire opere che vadano incontro all'opinione pubblica, scrivere senza pensare a cosa diranno gli altri. Allora, è questo quello che chiedo, scrivere nel silenzio della mia casa sola per lottare contro la lunga vita dei morti. che cosa pensa l'Ernoux del Nobel? Ne ha parlato in televisione perché non ha partecipato a feste o altro. Ha detto, è un grandissimo amore, ma è anche una responsabilità e qui c'è tutta l'Ernoux, che si è sempre battuta per problemi sociali. Ecco, io credo di aver esaurito il mio compito e passo senz'altro la parola ai relatori. Buon ascolto. Allora, buonasera a tutti e veramente grazie di questa presenza così numerosa perché uscire di casa oggi richiedeva un notevole coraggio e quindi direi che questo dimostra un interesse per l'argomento che ci fa molto piacere. Allora, io sono qui a introdurre gli altri relatori e a dire qualcosa sulle motivazioni di questa scelta che credo siano già state ampiamente illustrate dalle due relatrici che mi hanno preceduto. Comunque, proprio abbiamo deciso di scegliere, di parlare di Ernoux come primo momento, come primo evento che apre il nuovo corso dell'Accademia d'Umanità dell'Unitré per il 2022-23, abbiamo scelto appunto di presentare a Ernoux per vari motivi. Naturalmente il motivo principale è stato che da pochissime settimane l'è stato attribuito il premio. Comincio già a dire che io dirò Nobel perché sono abituata a dire Nobel perché naturalmente in quanto francesista faccio fatica a dire Nobel e quindi mi succede di dire Nobel, scusate. Allora, questo è stato direi il primo elemento che ci ha portato a fare questa scelta. Naturalmente molti altri elementi sono fondamentali. Uno è stato già indicato, cioè è la prima scrittrice francese che riceve il premio Nobel. Allora, non è la prima donna che riceve il premio Nobel perché chiaramente moltissime sono le donne che hanno ricevuto il premio Nobel, però come scrittrice francese è la prima. Io qui faccio subito la mia parentesi che facevo prima anche con Andrea. Proprio lamento il fatto che sia la prima, nel senso che la Jusenard, che per me è una scrittrice, non dico migliore, ma dico una scrittrice che chiaramente meritava il premio Nobel, non l'ha ricevuto. Però è importante comunque che una scrittrice francese quest'anno sia riuscita ad ottenere il premio Nobel. Una scrittrice molto divisiva, una scrittrice che ha, come dire, questo premio ha sollevato molte polemiche. In Francia non vorrei approfondirle, non è interessante, però non è una scrittrice che trova il consenso generalizzato. Proprio per tutto ciò che è stato detto precedentemente. Vi direi proprio per questa acutezza chirurgica che riprendiamo e riprenderanno sicuramente gli altri relatori. Ma in particolare è una scrittrice francese che vuole presentarsi come donna. Dovendo sempre fare i confronti con la Jusenard, la Jusenard non avrebbe mai individuato nel suo essere donna l'elemento caratterizzante, l'elemento che in qualche modo dava un senso alla sua opera. La Jusenard non è invece colei che ha partecipato a tutte le lotte che nella società francese si sono realizzate in tutta la sua lunga esistenza. Perché sono le lotte degli anni Sessanta, sono le lotte degli anni Settanta, sono le lotte ancora oggi che le donne francesi fanno. Quindi c'è anche questo aspetto di riconoscersi scrittrice donna, non solo appartenente al pantheon della letteratura. Un'altra cosa che mi sembra interessante da sottolineare, sempre per motivare questa nostra scelta, è il fatto che ha un percorso che a me in particolare sembra estremamente esemplare di che cosa significa la letteratura in Francia e cosa significano le strutture educative in Francia. Metto insieme le due cose, anche se non dovrebbero essere accomunate. Cioè, Anir non nasce in una famiglia di modeste origini e in qualche modo percorre il suo itinerario, a un itinerario direi esemplare, perché grazie al welfare francese, grazie alle istituzioni educative francesi, Anir non da una situazione modestissima, arriva a entrare addirittura, diventa docente universitario. Comunque rappresenta una mobilità sociale che in Francia è stata garantita, oggi le cose non sono più così evidenti, è stata garantita a coloro che non erano favoriti, a coloro che non erano privilegiati. Scusate, adesso cerco di… vi dico qualcosa del suo percorso, proprio poche parole. nasce nel 1940 a Yves-Toy, in Normandia, appunto Francia rurale, proprio Francia profonda. I genitori sono due operai entrambi, dopo la guerra riescono ad acquistare una piccola épicerie bar, che è una cosa tipica francese, per cui nel bar trovate anche gli alimentari. e poi è molto due, c'è questo discorso della scolara due dotata, perché del resto è una cosa abbastanza, forse nelle campagne questa cosa si è verificata anche in Italia. Cioè quando c'è uno scolaro particolarmente dotato si cerca proprio di promuoverlo. La famiglia investe moltissimo su di lui, investe perché possa avere un percorso attraverso le istituzioni educative che gli permette di uscire appunto da condizioni sociali modesti e fare il famoso salto di classe. Il Anirno entra al liceo, cosa che era abbastanza difficile per coloro che… il liceo è ancora, il liceo di origine Napoleone, fondato da Napoleone in Francia, il liceo era ancora estremamente elitario. Il finisce il liceo, entra all'università, inizialmente è previsto che faccia un percorso per diventare maestra alimentare, institutrice. però decide che non è sufficiente per la sua ambizione. È una donna che è molto convinta delle sue capacità, le hanno convinte tutte, tutto il suo ambiente l'ha convinta di essere particolarmente dotata, quindi decide che farà invece il percorso dell'università, poi i vari concorsi, capessa, grege, che si diventa grege in Francia, quando si diventa grege è l'ingresso per l'università. E quindi ecco, comincia a scrivere molto presto, però il suo primo libro, diciamo che è un libro che ha un certo riscontro, è La Place dell'83, io parentesi molto personale, ho ancora l'edizione dell'83, perché fu un libro che fece un certo scalpore, fu molto riconosciuto in Francia, all'estero la cosa ha preso un po' di, ha avuto più tempo perché forse è riconosciuta, ha avuto il premio Renaudot, eccetera, poi dopo ha scritto vari altri libri importanti, il libro poi che veramente l'ha consacrata come autrice importante proprio sul piano anche internazionale, sono Lesanet. Lesanet è stato un libro che ha ricevuto premi anche esteri, non solo italiani ma anche internazionali, un libro che è considerato il suo capolavoro, ma su questo lascio a loro dire che cosa ne pensano. ha continuato a scrivere fino ad arrivare appunto al Nobel che gli è stato attribuito in modo abbastanza inatteso, anche su questo non sono del tutto convinta, gli è stato attribuito qualche mese fa. e prima però di passare alla motivazione del Nobel, mi sembra interessante sentire cosa dice lei di questo suo percorso e di questa sua condizione di transfuge de classe, transfuga di classe in un'intervista fatta lei teme di essere portata ad esempio, un po' come Nicola Mathieu, Agnermont, no, davanti a noi, un esempio di meritocrazia che potrebbe autorizarci a dimenticare tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Sì, assolutamente, ricordo il primo programma televisivo che ho fatto, era in Svizzera per les Armo Arvida, che mi hanno fatto questa domanda, penso che ci siano altre eroine come lei e ricordo che la mia frase fu no, una rondina non fa primavera, era una risposta un po' ingenua, ma io avevo e ho la certezza di sapere che esistono forze di immobilismo, forze di rigenerazione dei privilegi, si parla molto della famosa separazione, quindi delle grandi scuole, se ci riferiamo a tutti questi percorsi, tutti effettivamente sono eccezionali, ma riservati il più delle volte a privilegiati, quindi c'è una lotta collettiva di portare avanti, non mi piace, non mi piace pormi come esempio. Sono dei parcours d'excepzione, ma di privilegi la plupart del tempo, quindi c'è un po' ingenuismo. Ecco, credo che sia interessante la sottolineatura di Agnès, non che dice appunto una rondina non fa primavera, è un termine estremamente così, un'affermazione effettivamente molto ingenua, che da adesso risale a tempi più lontani, ma questo suono rivendicare il fatto che non vuole essere portata come esempio di una meritocrazia francese capace per tutti di aprire le porte di un'ascensione sociale. Un'arondina non fa primavera vuol dire che alcuni riescono a, come dire, sfruttare le potenzialità, le opportunità che lo Stato francese offre attraverso le sue strutture educative, ma la maggior parte, quelli che non entrano alle grandes écoles, le famose grandes écoles che sono quelle che, come dire, impongono la cosiddetta separazione, la maggior parte rimane ai margini e solo alcuni riescono appunto a uscire da questa condizione di marginalità. Direi che a questo punto dopo posso rileggere due parole della giuria, della motivazione date dal Nobel, perché vorrei chiedere proprio ai due relatori che cosa ne pensano, se trovano che sia giustificata questa motivazione e quanto questa motivazione è giustificata a partire da alcuni libri che loro hanno considerato come particolarmente interessanti. Allora, la giustificazione, credo che Maria Pianderoli l'abbia già letta in parte, però è una breve frase, la giuria del Nobel ha voluto premiare il coraggio e l'acuità chirurgica con cui la scrittrice scopre le radici, le rimozioni, i condizionamenti collettivi della memoria personale. E quindi adesso la parola a Laura che dice quanto... Grazie Nora, grazie e grazie a tutte voi e tutti voi che siete intervenuti. È un piacere poter parlare con tanti visi amici davanti. Sì, io sono stata molto felice quando ho sentito che l'Aeronaut era stata premiata. Felice per varie ragioni. Innanzitutto perché ne avevo letto i diversi testi e mi era piaciuta molto. Felice perché è una donna e tutte le altre scrittrici Nobel di cui avevo letto dall'Anerdine Gordimer alla Zimbosca alla Lessinga alla Alice Moore mi erano piaciute tutte moltissimo. Comunque l'Aeronaut è comunque nota al grande pubblico. Se penso al premio Nobel dello scorso anno di cui ancora non ho imparato il nome, Abdullah Razak Gurnah poi sono andata a leggermi qualcosa di suo ma per me era uno sconosciuto. La Aeronaut più o meno la conosciamo tutti. E mi ha lasciato anche all'inizio perplessa la motivazione che ad una lettura superficiale devo ammettere mi era sembrata un po' generica. Poi ho voluto leggerla meglio meditandola proprio parola per parola e ci ho ritrovato i testi di Aeronaut e voglio incominciare proprio dalla prima parola questo coraggio coraggio coraggiosa come dice la motivazione sicuramente Aeronaut lo è stata lo è stata per come ha messo a nudo la sua vita per come ha raccontato i propri sensi di colpa per come ha parlato dei suoi cali senza nessuna sdolcinatura per come è riuscita a narrare ciò che spesso per non dire di solito si tiene nascosto per come è riuscita a dire l'indicibile quindi questo coraggio ho cercato di rintracciarlo nei testi che ho letto nel posto mi si era rivelata per la prima volta questa parola comunissima e chiave della scrittura di Aeronaut vergogna il timore di essere fuori posto quella vergogna che lei ha dissezionato praticamente in tutti i suoi testi fino a mostrarne meccanismi nascosti l'ho trovato in memoria di ragazza dove parla della sua prima esperienza sessuale l'ho trovato nell'altra figlia quando scopre di avere avuto una sorella morta prima della sua nascita l'ho trovato nella donna gelata dove il gelo e il matrimonio e c'è addirittura un testo meno noto di altri che si intitola proprio La vergogna dove parla di violenza domestica ma venendo al posto Laplace questo testo è dedicato alla figura paterna di quel padre che muore nelle prime pagine del libro volutamente non dico romanzo nelle prime pagine del testo quando lei è tornata sul posto dove ha vissuto la sua infanzia e la prima giovinezza ma attenzione il posto non è soltanto il luogo dove lei ritorna padre che muore a 67 anni a un passo dalla pensione e lei ricorda la vicenda la storia del padre che soprattutto storia di lavoro padre che era contadino da contadino diventa operaio poi insieme alla moglie mette in piedi questo bar drogheria di cui diventa gestore padre che vediamo in alcune fotografie la fotografia è un elemento ricorrente nei testi di Arnault e lo vediamo sempre insieme agli oggetti di cui è più orgoglioso la sua bicicletta il suo negozio poi la Renault 4 e mentre racconta del padre dei genitori ma soprattutto di lui racconta anche la propria storia racconta di come pian piano attraverso la scuola ha imparato ha imparato molto si è formato una cultura molto diversa da quella dei suoi genitori che l'ha pian piano allontanata dalle sue origini e di questo prova vergogna ma riesce e questo è veramente straordinario riesce ad ammetterlo riesce a dirlo riesce a comunicare questo suo senso di vergogna un senso di colpa che dice lei stessa è alla base della sua scrittura che e sono parole proprio di Arnault considera come una sorta di risarcimento nei confronti delle persone oggetto del suo tradimento è un motivo ricorrente quello del tradimento nella scrittura di Arnault tradimento che lei sente per aver abbandonato la classe dominata ed essere andata nella classe dominante e uso queste due parole non facili perché lei le preferisce citando tra l'altro il sociologo Bourdieu di cui è grande ammiratrice e sostenitrice perché in media preferiscono parole edulcorate preferiscono parlare di classe abbiente classe meno abbiente ma i termini esatti e la scrittura di Arnault è sempre esatta sono classe dominante e classe dominata e questa classe dominata viene descritta nella sua povertà con dettagli spesso dolorosi sono condizioni di povertà materiale e culturale vissute dai suoi genitori e prima ancora dai loro genitori dai nonni e anche questo viene ricordato da Arnault nonno analfabeta la madre che sapeva qualcosa di più ma comunque è ancorata deve rimanere ancorata alle proprie responsabilità legate al genere da cui assolutamente non può allontanarsi e questo ricordare anche i nonni sottolinea anche una sorta di inevitabilità della riproduzione quasi sia una condizione ineluttabile che si ripete di generazione in generazione per questo lei si sente è l'eccezione ma per questo prove anche un senso di vergogna un senso di colpa mi sembra anche molto interessante a proposito sempre di vergogna una riflessione sul linguaggio di Arnault e voglio ancora una volta riportare le sue parole lei dice sempre nel posto rivolta ai genitori come volete che non mi riprendano gli insegnanti se voi parlate sempre così male perché i genitori la esortano ad andare bene a scuola per non fare brutta figura con gli insegnanti e sempre poco dopo dice nei miei ricordi tutto ciò che riguarda il modo di esprimersi è motivo di rancore e di litigi penosi ben più del denaro suggerendo che all'interno del linguaggio nascono i primi conflitti legati all'affermazione identitaria pertanto il posto non è soltanto addirittura direi non è come potremmo credere all'inizio del testo quello dove lei ritorna il posto è quello che attraverso la scrittura lei restituisce al padre restituisce al padre il suo posto nel mondo e lo fa con la capacità che le è propria di raccontare le disuguaglianze di classe che vengono nominate nella motivazione dell'accademia e che alla luce di questa ricerca mi sono sembrate molto molto più chiare più chiare anche quando sottolinea la doppia fatica che devono fare quando vanno a scuola i dominati perché non solo devono appropriarsi di una cultura che non è la loro che è diversa ma si rendono conto man mano che imparano che più imparano più si allontanano dal luogo di origine e quindi c'è una doppia fatica e un adattamento non facile cerco di essere veloce per arrivare anche agli anni perché è una situazione molto diversa anche se qui la motivazione direi che è veramente chiara negli anni la storia che di più la storia con la S minuscola che è quella protagonista del posto si affianca alla storia con la S maiuscola anche qui ci sono fotografie sono fotografie dove compare una giovane donna poi una donna più avanti negli anni e attraverso queste immagini nascono i ricordi ricordi che sono all'inizio intimi ma diventano sempre più ampi sempre più ne fanno un discorso sociologico un discorso collettivo che fa diventare l'esperienza da esperienza soggettiva ad esperienza direi di una generazione intera senz'altro e accanto alle fotografie a scandire il passaggio degli anni ci sono i pranzi i pranzi di famiglia uno o due all'anno dove le voci dei familiari diventano pian piano le voci della storia di Francia attraverso queste voci noi sentiamo parlare della liberazione sentiamo parlare di Algeria vediamo De Gaulle vediamo il 68 l'emancipazione femminile Mitterrand devo dire che mentre leggevo pensavo devo dire l'ho goduto moltissimo questo libro e pensavo peccato che non sia non ci sia un equivalente italiano perché tutti questi nomi sono a noi noti ma in un nostro gli anni ne avremmo sostituiti degli altri anche se la storia europea è in tanti in tanti momenti decisamente uguale per cui ecco mi sembra proprio che si possa per gli anni parlare di una biografia di una generazione quella nata negli anni 40 credo che sia la generazione che più gusta questo romanzo man mano si va avanti nel tempo man mano alcuni decenni sfuggono direi la generazione di chi è nato negli anni 40 è quello che proprio lo può vivere a pieno perché attraverso gli anni noi riviviamo le rivolte studentesche e non soltanto quelle francese del 68 ma anche ricordiamo quelle italiane così come ricordiamo tante pubblicità e tutto questo in un continuo ecco mi ha colpito anche questo fatto il libro non è diviso in capitoli ci sono soltanto due spazi a dividere i paragrafi quando si passa da un anno all'altro è una specie di filo continuo che porta avanti il ricordo non soltanto di chi scrive ma anche di chi legge credo di aver esaurito il mio tempo basta smetto smetto le voci tramandavano un'eredità di miseria e privazione che era precedente alle restrizioni della guerra un tuffo in una notte immemorabile a quei tempi di cui sgranavano i piaceri e le pene gli usi e i saperi abitare in una casa di terra battuta portare le galosce giocare con una bambola di stracci lavare la biancheria con la cenere del legno attaccare alle camicette dei bambini vicino all'ombelico un sacchetto di stoffa con degli spicchi d'aglio per cacciare i vermi obbedire ai genitori e prendersi gli scappellotti così imparano a non rispondere catalogavano ciò che avevano indiorato ciò che all'epoca non conoscevano e non facevano mai mangiare la carne rossa le arance la previdenza sociale i sussidi familiari la pensione a 65 anni partire per le vacanze ricordavano i motivi d'orgoglio gli scioperi del 36 il front populaire prima l'operaio mica contava niente noi i piccolini seduti per il dolce dimenticate dagli adulti nel rilassamento di fine pasto restavamo ad ascoltare le storie licenziose a cui si abbandonavano le canzoni della loro giovinezza che parlavano di Parigi di fanciulle andate alla deriva di squillo di quartiere e gaga della mala le grand rouquin l'irondelle di fobura il trinciato che si prende tra le dita e che si rolla romanze di pietà e passione che la cantante gli occhi chiusi interpretava con tutta se stessa facendo sgorgare più di una lacrima asciugata con l'angolo di un tovagliolo poi avevamo il diritto di intenerire a nostra volta la tavolata intonando etuale de neige foto brunite passavano di mano in mano il dorso macchiato da tutte le dite che le avevano toccate nel corso degli altri pranzi un misto di unto e caffè ormai fusi in un colore indefinibile in quei due sposi rigiditi e austeri alle cui spalle comparivano i vari invitati al matrimonio disposti in più file davanti a un muro non si riuscivano a riconoscere né i propri genitori né nessun altro e anche in quel neonato dal sesso indefinibile posato mezzo nudo su un cuscino non si rivedeva più se stessi ma qualcun altro una creatura appartenente a un tempo muto e inaccessibile la foto in bianco e nero di una bambina con un costume da bagno scuro su una spiaggia di ciottoli sullo sfondo le scogliere è seduta su una roccia piatta le gambe robuste sono distese dritte in avanti si appoggia sui gomiti gli occhi chiusi la testa leggermente inclinata sorride una spessa treccia bruna le scende sul petto l'altro dietro la schiena tutto rivela il desiderio di posare come le dive delle pagine di cinemonde e della pubblicità dell'ombro solera di sfuggire al proprio corpo umiliante e senza importanza di bambina le cosce più chiare come la parte alta delle braccia disegnano la forma di un vestitino e indicano il carattere eccezionale per lei di un soggiorno al mare di una gita la spiaggia è deserta sul retro agosto 1949 sottville sur mer sta per compiere nove anni è in vacanza con suo padre dagli zii una coppia di artigiani che producono corde la madre è rimasta a iftu a badare al bar alimentare di famiglia che non chiude Maria di solito è lei a intrecciarli i capelli e a fissarli lì a corona sopra la testa con nastrini e fermagli forse suo padre e sua zia non sono capaci di acconciarla così oppure approfitta dell'assenza della madre per lasciare sventolare le trecce difficile dire a cosa pensi cosa sogni come guardi agli anni che la separano della liberazione di che cosa si ricordi senza sforzi pare che tocchi a me va bene mi dispiace allora partiamo appunto dalle ragioni che il comitato del Nobel o del Nobel così non facciamo sentire sola Nora è espresso per come motivazioni per l'assegnazione del Nobel o Nobel a Danierno il coraggio e l'acuità clinica con la quale la scrittrice scopre le radici le rimozioni i condizionamenti collettivi della memoria personale allora la cosa che a me ha colpito prima battuta è venuta in mente è il fatto che questa motivazione ha un punto di partenza e non un punto d'arrivo cioè non è tanto un riassunto del lavoro o solo un riassunto non è una critica della motivazione di quello che Anierno ha fatto ma è uno straordinario punto di partenza per capire e per approfondire le sue opere e il suo pensiero perché il lavoro di Anierno il l'ideale la 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 scrittura teniamo presente per esempio un elemento fondamentale su quale torneremo che Anierno non è per niente una narratrice ma è una scrittrice Anierno non narra mai ma scrive questa differenza cioè dare il potere alla scrittura il potere alla grafia e qui a me viene in mente da grafia viene in mente graffio cioè perché perché graffio perché la scrittura di Anierno lascia un segno che nella maggior parte dei casi è un segno necessariamente doloroso da qui si potrebbe continuare questo lavoro che oltretutto è riassunto in maniera secondo me quasi paradigmatica e potrebbe essere una delle risposte alla motivazione nell'ultimo libro da lei scritto che è Le Jeune Fille tradotto sì Le Jeune Homme scusate essendo lei Anierno ovviamente faccio questi lapsus e e ho tradotto questo lapsus anche delle altre ragioni che adesso vi racconto che si intitola Il ragazzo in questo libro poi sentiremo i brani letti Anierno parla di una sua avventura con un ragazzo di 30 anni più giovane di lei allora e racconta questa avventura con un ragazzo di 30 anni più giovane di lei con una anche qui mancanza di narrazione e quindi mancanza di passione quindi scrive questo rapporto con avendo sempre presente quello che ci diceva prima Laura Marelli e per esempio riguardo al fatto che quando Laura Marelli ricordava gli eventi che nelle zannées vengono ricordati e che vengono gli operai erano importanti la figura di De Gaulle le altre figure il un passato che è un passato significativo ecco questo passato però a un certo punto deve necessariamente finire negli anni finisce con una frase che è salvare qualcosa del tempo in cui non saremo più e quindi questi ricordi finiscono perché noi necessariamente moriamo cioè il divenire delle cose che è la base e l'essenza del direi di ogni cosa è proprio il noi non sappiamo perché siamo qua siamo qua in questo momento e poi a un certo punto non saremo più e infatti l'Ernod di questo ragazzo a un certo punto dice lui era la mia morte perché lui quando io sarò morta ricorderà delle cose che io non potrò sapere che sono esistite e lo stesso dice così come lo erano i miei figli e come lo ero stata io per mia madre scomparsa prima di aver visto la fine dell'Unione Sovietica ma che si ricordava le campane a festa in tutta la Francia l'11 novembre 1918 cioè il filo genetico del ricordo è un filo che a un certo punto noi conteniamo ma che possiamo contenere solo nella nostra vita nel momento in cui siamo nel momento in cui non siamo più o non siamo stati ci arriva ma attraverso il passaggio e ho tradotto un passaggio anche qui d'affetti non si va a parlare qui di discorso storico ma di discorso di ricordi che passano attraverso il racconto di nuovo e quindi non attraverso una narrazione delle cose ma un dire il dire che è l'equivalente del raccontare e a questo punto mi fermo anch'io perché non voglio mi viene l'altra cosa è il rimando all'altro al grande autore francese e non solo francese al grande punto di riferimento e al grande punto di riferimento di sul tema della memoria e sul tema della memoria e letteratura che è stato Marcel Proust oltretutto casualmente siamo finiti nel 1918 quindi quando nella ricerca ci sono molti riferimenti sto pensando anche proprio nel primo libro al passaggio delle truppe va beh insomma Marcel Proust però fa qualcosa che è interessantissimo mettere a confronto con quello che fa Annie Ernaud Annie Ernaud in Ecrire la vie che è un quarto ci sono quei libri pubblicati da Gaimar che raccolgono diversi volumi questo volume è ritmato dalla presenza come in Les Années di fotografie di momenti particolari di momenti familiari di momenti quindi dalla presenza della fotografia ma non è solo la presenza della fotografia è il fatto che Annie Ernaud ha per Annie Ernaud il ricordo è l'immagine del ricordo è un'immagine fotografica cioè è come se venisse scattata una fotografia in questo momento in questa sala a fermare questo attimo e quando qualcuno la riguarderà o la riguarderemo tra un po' di anni non attiverà quel meccanismo della memoria proustiano della Madeleine ma attiverà il ci farà vedere come in una lapide come in una fotografia questo momento cosa fa proust che costruisce una cattedrale oltretutto l'esanne è stato definito opera mondo come opera mondo per eccellenza e tra le opere mondo per eccellenza è la ricerca proustiana parliamo della Madeleine tutti ce la ricordiamo la Madeleine anche da un punto di vista scientifico è stato dimostrato che l'attivazione del ricordo avviene nei sensi attraverso soprattutto il canale olfattivo noi siamo a prevalenza visiva ma nel ricordo nella memoria siamo a prevalenza olfattiva allora la fotografia ha una sola dimensione proust invece nella dimensione olfattiva è una dimensione è una dimensione enorme perché il ricordo che ci viene attivato non so aprendo un armadio vecchio della casa di una nonna ci rimette in moto qualcosa che proprio è una dimensione diversa quindi una dimensione direi mi viene da dire ovale rotonda senza confini o quasi rispetto alla dimensione credo che si dica ernalisiana in francese l'aggettivo riguardo a Nierno che è invece piana questo è assolutamente fondamentale perché vuol dire che non c'è una celebrazione della costruzione di un ricordo personale di un ricordo collettivo c'è l'analisi c'è c'è la scrittura c'è il vedere le cose dietro le cose questo ragazzo rappresenta ed è la sua morte rappresenta il suo passato lei dispiace dirlo ma ne parlavamo anche prima con Laura nel libro c'è questo ragazzo è il palinsesto cioè è quello che c'è dietro mi fa vedere cose che c'erano nel mio passato finisco con due cose velocissime uno una cosa personale è la scrittrice o lo scrittore che a me fa stare peggio da un punto di vista emotivo io tendo a piangere tutte le volte che leggo un libro di Anierno proprio mi scarnifica e questo non è certamente un limite e anzi vuol dire che muove non ho ancora capito non ho ancora ben collocato perché questo avvenga e l'altra cosa è quella della che leggendo un ragazzo la cosa che poi alla fine io mi sono trovato a fare con la quale mi sono trovato a fare i conti e che mi ha molto molto colpito è vedere una donna di 52 anni farei 54 che sta con un uomo che ne ha un ragazzo che ha 30 anni meno di lei ma e questo a un certo punto ho pensato ma questo povero ragazzo e poi mi è venuto in mente e tutte le povere ragazze presenti nei romanzi e non solo che vivevano e c'è anche questo qua la stessa situazione c'è stato il processo immedesimativo in queste ragazze io ho detto povero ragazzo dico povera ragazza vabbè forse togliamoci pure l'aggettivo queste ragazze che vivevano questa esperienza quindi la Ernault di nuovo mi permette di fare un ribaltamento e di pormi di fronte a uno specchio e a pormi delle domande che sono veramente che danno l'idea del potere di nuovo non tanto della letteratura quanto della scrittura se non le scrivo le cose non sono arrivate fino al loro termine sono state soltante vissute cinque anni fa ho passato una notte impacciata con uno studente che mi scriveva da un anno e aveva voluto incontrarmi spesso ho fatto l'amore per obbligarmi a scrivere volevo trovare nella fatica nella derelizione che ne segue delle ragioni per non aspettare più niente dalla vita speravo che la fine dell'attesa più violenta che ci sia l'attesa di godere mi facesse provare la certezza che non esiste piacere superiore a quello della scrittura di un libro è stato forse proprio il desiderio di mettermi in moto la scrittura di un libro che esitavo a cominciare a causa della sua ampiezza che mi aveva spinto a proporre a A di venire da me per bere qualcosa dopo una cena al ristorante durante la quale per timidezza aveva malapena aperto bocca era di quasi trent'anni più giovane di me la memoria mi restituiva senza sforzo immagini della guerra dei cararmati americani nella Valais all'Ilebon dei manifesti del generale de Gaulle con il suo che più in testa dei cortei del maggio 68 e io ero assieme a qualcuno in cui i ricordi più remoti risalivano con fatiga l'elezione di Giscard d'Esta al suo fianco la mia memoria mi sembrava infinita la profondità del tempo che ci separava aveva una grande dolcezza dava al presente maggiore intensità che quella lunga memoria del tempo precedente alla sua nascita fosse in fondo il pendant l'immagine capovolta di quella che sarà la sua dopo la mia morte con gli avvenimenti i personaggi politici che non avrò mai conosciuto era un pensiero che non mi sfiorava ad ogni modo attraverso la sua stessa esistenza lui era la mia morte come lo erano i miei figli e come lo ero stato io per mia madre scomparsa prima di aver visto la fine dell'unione sovietica ma che si ricordava le campane a festa in tutta la Francia l'11 novembre 1918 era un segno il segno che il suo ruolo di scoperchiatore del tempo nella mia vita era finito probabilmente era finito anche il mio di iniziatrice nella sua ha lasciato Rouen e andato a Parigi ho cominciato la narrazione del mio aborto clandestino attorno al quale giravo da tanto tempo più proseguivo nella scrittura di quell'evento che era accaduto prima ancora che lui fosse nato più mi sentivo irresistibilmente spinta a lasciare A quasi volessi staccarlo ed espellerlo come avevo fatto con quell'ambrione più di trent'anni prima lavoravo senza sosta al mio racconto e attraverso una risoluta strategia di distanziamento anche alla ottura con l'approssimazione di qualche settimana quest'ultima ha coinciso con la fine del libro eravamo in autunno l'ultimo del ventesimo secolo mi scoprivo felice di entrare sola e libera nel terzo il millennio 1998-2000 ecco l'ultima lettura in qualche modo introduce il tema che mi sono assegnata e cioè parlare di un altro dei libri di Agnerno che è l'evento in italiano l'evento e questo libro è un libro che è tutto centrato sul racconto dell'aborto clandestino che è stato un momento centrale della sua esistenza un libro che Agnerno è scritto nel 2000 naturalmente l'aborto avveniva negli anni 60 quindi quando con un distacco quindi di circa 40 anni perché è interessante questo libro perché credo che in questo libro Agnerno parla di un'esperienza che molte scrittrici hanno raccontato nelle loro produzioni nelle loro opere però è veramente lontana dalle motivazioni che hanno spinto molte scrittrici che hanno vissuto questa esperienza a raccontarlo non c'è nessun intento autocritico non c'è nessun intento autoassolutorio non c'è nessun intento autopunitivo non c'è nessuna volontà neanche direi politica in questo parzialmente c'è una volontà politica in questo racconto è il racconto di un evento che prende il suo significato dal contesto e dal momento in cui esso avviene e evidentemente dalla persona che lo vive è un episodio che ci lascia leggendo questo libro io sono rimasta abbastanza colpita perché e credo che tutti noi possiamo rimanere colpiti perché non c'è nessuna ricerca del del se del che fare nel momento in cui Anierno ha vent'anni nel pieno della sua formazione quando sta studiando per poter passare l'esame e entrare nell'ecolo normale eccetera si accorge di essere incinta una gravidanza non voluta evidentemente una gravidanza che ha un'origine anch'essa sociale perché manca la conoscenza manca la preparazione manca la consapevolezza mancano gli strumenti di accesso agli anticoncezionali eccetera e è un evento ecco questo è molto interessante proprio il termine che viene usato il titolo che viene dato un evento perché in qualche modo viene vissuto come qualcosa di non voluto qualcosa che viene da fuori che in qualche modo interrompe un percorso che è il percorso deciso voluto programmato e viene vissuto come qualcosa sul quale non c'è una scelta di tipo morale da fare oggi la scelta sarebbe tra abortire non abortire si abortisce non si abortisce no questo problema questo dilemma non si pone nel modo più totale nel racconto di Anirnò e credo nel racconto oggettivo nel racconto che poi dirò del come è stato ricostruito appunto attraverso quali strumenti è stato ricostruito questo percorso questa esperienza non si pone perché quello che si pone è il come come fare per abortire l'unico problema che Anirne deve affrontare è quali medici posso trovare che mi permettono e garantiscano un aborto senza eccessivi pericoli se non è il medico sarà la Fesuse d'Ange le nostre famose mammane se non è la mammane devo comunque trovare i soldi per cioè c'è tutto un contesto sociale che in qualche modo non pone nel modo più assoluto Anirnò di fronte al dilemma del garder l'enfant come dice varie volte o abortire questo dilemma non si pone e il il modo in cui Anirne racconta a 30 anni di distanza a 40 anni di distanza non aggiunge nulla al non è un ricordo che viene edulcorato un ricordo che in qualche modo vuole come dire assolvere a una funzione assolutoria è un ricordo che viene raccontato in maniera oggettiva allora qual era la situazione nella Francia del periodo e in questo senso un minimo di come dire volontà politica c'è in questo ricordo la situazione è di un aborto clandestino che poteva a cui potevano sfuggire solo le ragazze che potevano andare all'estero perché in Francia l'aborto era illegale c'è addirittura un viene riportato Dany riporta addirittura una norma del tempo riportata nella Rus del 1948 che racconta come l'aborto appunto venga punito con sanzioni con la detenzione e sanzioni pecuniarie e racconta proprio come venga punito addirittura vengano puniti sia coloro che abortiscono sia coloro che in qualche modo aiutano o intervengono fattivamente in questo aborto nella realizzazione dell'aborto e è molto importante capire che in qualche modo alle ragazze di quel tempo non si poneva nessun problema di scelta in questo senso mi interessa fare riferimento al fatto che questo libro che forse già conoscete è stato rasposto cinematograficamente in un film che si chiama L'Eventement e è molto interessante come sempre sapere a quale pubblico ci si rivolge quando si fa un film attraverso il titolo in Francia questo titolo è rimasto L'Eventement perché era un evento era un evento che veniva a stravolgere completamente un programma di vita a sconvolgerlo a dargli un altro un'altra direzione e era quindi un evento qualcosa che veniva da fuori non voluto la traduzione del titolo italiano è La scelta di Anna e nella scelta è no 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 è dopo è dopo la scelta di Anna voi capite la differenza tra raccontare un evento e dire la scelta la scelta è chiaramente una scelta di tipo morale comunque è un dilemma o si fa una scelta o se ne fa un'altra è un questo lo dico proprio perché in qualche modo c'è una volontà c'è un pubblico che non è preparato a leggere questo tipo di come dire di racconto quasi crudele crudele nella sua semplicità e nella sua mancanza di qualsiasi ricordo che voglia addolcire che voglia giustificare che voglia assolvere c'è un pezzo del nel quando comincia a raccontare questa esperienza in cui Aniel No dice come ha voluto ricostruirla cioè quali sono stati i percorsi e le tappe attraverso cui ha voluto ricostruire questa esperienza e raccontarla e penso che Caroline potrebbe leggerlo perché mi sembra molto significativo è passato una settimana da quando ho cominciato il racconto il racconto di questo evento senza nessuna certezza di continuarlo intendevo soltanto assicurarmi di voler davvero scrivere sopra qualcosa un desiderio che mi prendeva ogni volta che lavoravo a un altro libro quello su cui sono ormai da due anni opponevo resistenza senza potermi impedire di pensarci a secondare veramente quel desiderio mi terrorizzava ma mi dicevo anche che non potevo morire senza avere fatto nulla di quanto mi era accaduto se una colpa c'era sarebbe stata quella una notte ho sognato di tenere tra le mani un libro che avevo scritto sul mio aborto ma in libreria era introvabile nessun catalogo ne faceva menzione la copertina in basso recava la dicitura esaurito in caratteri maiuscoli non sapevo come interpretare quel sogno se dovevo scrivere il libro o se farlo era inutile con questo racconto è tutto un tempo che si è messo in moto e mi trascino mio malgrado ora so di essere determinata ad andare fino in fondo qualsiasi cosa accada nello stesso modo in cui lo ero a 23 anni quando ho strappato il certificato di gravidanza voglio tornare a immergermi in quel periodo della mia vita sapere ciò che è stato trovato lì dentro quest'esplorazione si scriverà nella trama di un racconto l'unica forma in grado di rendere un evento che è stato solo tempo all'interno e al di fuori di me l'agenda e il diario di quei mesi mi forniranno i punti di riferimenti e le prove necessarie alla ricostruzione dei fatti mi sforzerò soprattutto di calarmi in ogni immagine fino ad avere la sensazione fisica di raggiungerla fino a che ne emerga qualche parola tale da farmi dire ecco e di risentire ognuna di quelle frasi indelebile in me in cui senso allora doveva essere talmente insostenibile o al contrario talmente consolatorio che a ripensarci oggi mi sento sopraffatto dal disgusto e dalla dolcezza che la clandestinità in cui ho vissuto questa esperienza dell'aborto appartenga al passato non mi sembra un motivo valido per lasciarla sepolta tanto più che il paradosso di una legge giusta è quasi sempre quello di obbligare a tacere le vittime di un tempo con la scusa che le cose sono cambiate ciò che è accaduto resta coperto dallo stesso silenzio di prima e proprio perché nessun divieto pesa più sull'aborto che mettendo da parte la percezione coltiva e le formule necessariamente semplificate imposte dalle battaglie degli anni 70 violenza sulle donne eccetera io posso affrontare in tutta la realtà questo evento indimenticabile allora io direi che il tema che poi è il filo rosso di tutto quello che abbiamo letto è questo racconto di sé questo racconto autobiografico socio autobiografico è un direi che è una domanda che rivolgo prima a Laura poi a Andrea perché è importante capire di quale tipo di autobiografia stiamo parlando quanti minuti mi dai? due preferisco parlare dell'écritur tre minuti me li posso prendere dieci minuti no cinque minuti cinque minuti ne prendo un po' dunque se pensiamo all'autobiografia classica ci sono degli segnali esterni indiscutibili l'autobiografia classica è in prima persona e al tempo passato sono segnali esterni che noi possiamo trovare in diversi libri di Ernaud nei primi senz'altro ma se andiamo a scavare un po' più a fondo rispetto a questi che sono indubbiamente segnali esterni secondo me è difficile per non dire impossibile o addirittura errato parlare di autobiografia mi riferisco soprattutto ma posso riferirmi anche ad altri testi agli anni che apparentemente è libro autobiografico io ho detto biografia di una generazione ma non autobiografia innanzitutto non c'è mai un io mai il pronome di prima persona non compare quando ci sono le fotografie che si capisce si suppone ritraggono la scrittrice c'è comunque una l una lei e poi i pronomi usati sono sempre l'impersonale on che viene tradotto ora si ora molto più di frequente noi si trova anche nu tutte le volte che lei si trova coinvolta personalmente nel gruppo nu è per noi donne noi progressiste e si trova anche il pronome di terza persona plurale per tutti quegli eventi che non la vedono coinvolta personalmente direi che non la si può classificare come autobiografia come opera complessiva ma neanche come romanzo e del resto lei stessa negli anni 80 dopo la pubblicazione di Laplace ha chiesto all'editore francese Gaimard di togliere qualsiasi classificazione di genere da tutte le copertine delle sue opere quindi è come se fosse già lei consapevole di questa grande innovazione proprio l'allontanamento dalle categorie tradizionali della letteratura è senz'altro se non l'elemento uno degli elementi che maggiormente connotano in senso innovativo l'opera di di Ernaud di definizioni ne sono state proposte tante c'è qualcuno che ha parlato di autobiografia collettiva e per gli anni potrebbe anche andare bene c'è Giorgio Vasta scrittore critico di cui molto mi fido che utilizza questo ossimoro autobiografia impersonale e in effetti analizzato individualmente si può adattare a diversi testi direi che come tanti capolavori i testi di Ernaud sfuggono ad una classificazione di genere e tornando proprio al discorso autobiografia nell'autobiografia c'è sempre anche uno scavo psicologico che qui non c'è l'abbiamo sentito in tutti i testi che abbiamo letto quello che forse più avvicina il tipo di lavoro che fa Ernaud è quello della etnologa attraverso i suoi racconti che sono racconti intimi sempre senza abbellimenti senza orpelli mira alla costruzione di un'identità più ampia tra parentesi torniamo anche in questo caso alla motivazione del Nobel che in poche parole ha proprio centrato le caratteristiche della scrittura di Ernaud e lei stessa mi piace molto far parlare lei oltre che interpretare lei stessa dice che scrivendo lei si prefigge un unico scopo quello di far esistere ciò che altrimenti andrebbe perso vorrei riprendere una citazione che non ricordo più da chi è stata già fatta quando lei dice se non le scrivo le cose non arrivano al loro compimento sono state solamente vissute a me è ricordato senz'altro e cioè nella Genome certo a me è ricordato lo Svevo del Vecchione dove Svevo dice mi pare di non aver vissuto altro che quella parte di vita che descrissi la vita stessa è diluita e perciò offuscata da troppe cose che nella sua descrizione non vengono menzionate già per questa ragione la descrizione della vita si fa tanto più intensa della vita stessa mi sembra straordinario che a un secolo di distanza riprendano lo stesso concetto di scrittura e di necessità di fermare ciò che altrimenti prima di essere fermato esisterebbe soltanto in parte ho fatto preso meno del mio tempo e me ne prendo un po' per la conclusione sull'ecritore grazie assolutamente assolutamente dopo c'è pochissimo da aggiungere dire che sono completamente allineato e d'accordo con quello che ha detto Laura è banale però è profondamente vero trovare una definizione di quello che fa Nierno è difficilissimo e la difficoltà della presa di distanza da sé questo è uno dei punti fondamentali la scrittura proprio come tentativo di prendere distanza dall'evento raccontato dal sé stessa raccontata dal sé stesso raccontato l'impossibilità di allontanarsi comunque da sé di liberarsi la difficoltà ma la volontà di liberarsi dal reale e questo quindi dal dolore che questo suscita siamo in una forma oltre che etnologica che è assolutamente perfetta una forma particolarissima e unica di racconto del sé forse se io dovesse dire però non lo so non voglio ergermi è racconto del sé forse con tutto quello che questo comporta racconto del sé non vuol dire racconto di se stessi vuol dire quello che ho detto prima prendere le distanze cercare di prendere le distanze allontanarsi dal reale è molto molto complesso era avere sotto ma non già crusso le sue memorie era molto più semplice era molto più scoperto il motivo per cui scriveva insomma è molto più semplice da quello niente penso che sia interessante adesso fare questa domanda a Laura sugli aspetti diciamo formali perché in fondo ha avuto un premio Nobel per la letteratura quindi non ha avuto un premio Nobel in quanto ha raccontato in quanto sociologa o etnologa un periodo o in quanto storica ha avuto un premio Nobel per la letteratura quindi è interessante riuscire a capire quali aspetti formali sono tipici della scrittura dell'Ernod e quali scelte proprio di tipo formale l'Ernod ha fatto quali sono le scelte più significative fatte per scrivere per scrivere direi noi forse abbiamo un po' appiattito però non voglio riaprire un discorso diciamo c'è stata un'evoluzione notevole tra i primi libri dell'Ernod e gli ultimi cioè non possiamo così pensare che quello che scrive nella PLAS sia quello che scrive nelle Zanet o quello che scrive nel Genome però c'è una diciamo c'è un punto di vista o c'è una decisione specifica che è quella riconosciuta anche dalle motivazioni del Nobel che in qualche modo ritroviamo già nella PLAS certo sono assolutamente d'accordo un discorso generico non solo è difficile ma sarebbe sbagliato perché sono testi profondamente diversi e quando a proposito di Ernaud molto facilmente si sente citare la famosa écriture plat perché lei stessa ha usato questo termine può andare bene per certe opere io direi per la PLAS più che per altre e l'évenement certo dove lei dice di usare il linguaggio come un coltello e qui torno alla motivazione quella acutezza lei stessa dice un coltello per squarciare i veli dell'immaginazione ma non si può attribuire questa definizione a tutte le opere a dire no assolutamente peraltro ne parlavo proprio con Nora stiamo attenti i francesisti lo sanno bene a non tradurre écriture plat con scrittura piatta perché piatta ha per noi una connotazione fortemente negativa casomai come mi suggeriva Nora piana esattamente questo dal punto di vista della traduzione direi che è quello più vicino dal punto di vista del significato io direi andrei anche un pochino più in là direi misurata direi una scrittura che procede per sottrazione e raggiunge un forte livello di condensazione e mi è piaciuto molto in una sua intervista alla domanda appunto di definire la propria scrittura lei risponde che quando cerca un termine non vuole mai non va mai la ricerca del termine boh di quello bello ma di quello giusto e anche qui lei dà un'indicazione che non è soltanto una descrizione della propria del proprio modo di scrivere ma direi che è una quasi una spiegazione di tipo etico non le interessa l'orpello non le interessa l'ornamento le interessa trovare la parola esatta mi piace anche il fatto che abbia aggiunto che lei peraltro non scrive mai nella freddezza ma sempre spinta dall'emozione ha trovato anche in italiano direi un grande traduttore perché Lorenzo Flabbi per quel che ho visto io nelle opere che ho letto in francese in italiano è stato straordinario e richiesto lui stesso di una definizione di questa écriture plat e in generale del modo di scrivere di Ernaud lui parla di essenzialità levigata e lui stesso facendo a Ungaretti addirittura paragona la scrittura di lei al modo di procedere di Ungaretti che asciuga via via la frase fino ad arrivare quel termine lei diceva giusto esatto che condensa il tutto ma non è per questo un termine non levigato quindi c'è anche la ricercatezza del termine migliore direi che la definizione data da Flabbi è molto molto buona e sempre Flabbi mi ha fatto in un'intervista mi ha fatto ripensare a quanti lui li chiama realia ci siano nei testi di Ernaud ci sono moltissimi nomi che si riferiscono a cose reali nomi di prodotti nomi di prodotti nomi di pubblicità nomi di supermercato famoso ad esempio Oshan quasi proprio a confermare l'aderenza alla realtà del suo scritto spesso addirittura non si preoccupa della comprensibilità dei termini al di fuori dei confini francesi tu hai parlato di Capès di questo Capès ho capito è un termine che in Francia è normalissimo è un esame che viene passato un concorso che devono superare gli insegnanti per diventare abilitati ma a noi Capès non dice niente e Flabbi almeno a me non diceva niente Flabbi ha scelto come per tanti altri termini di non interrompere il discorso di una traduzione lo lascia tale quale alla fine ha aggiunto un glossario per spiegare a chi non è addentro nella cultura francese tutti questi termini non solo ci sono anche e mi sembra faccia veramente parte delle caratteristiche della sua scrittura moltissimi oggetti considerati mediamente non degni della scrittura letteraria si parla di viaggi nella si parla di parcheggi si parla di supermercati si parla di pubblicità di prodotti che vengono pubblicizzati e di fronte a questa materia che Ernaud ha definito incandescente la vita le vergogne le vergogne di cui ho parlato di cui sono veramente molto convinta il superamento della vergogna è un punto fondamentale le fatiche le miserie tutte le miserie che lei narra l'unica arma di Ernaud è un tipo di scrittura essenziale piana che lei stessa ha spiegato così non posso scrivere senza provare delle emozioni ma queste restano nel mio corpo e nella mia testa non le faccio affiorare nella pagina la mia scrittura Platt è nutrita dalle sensazioni che restano però dietro le parole e se mi permette Andrea riprendo un attimo il Proust da lui citato che avevo un po' di timore a citare perché è sempre là però penso che vada molto bene fare un confronto sull'uso che delle termini reali e degli oggetti ha Proust e ha Ernaud per Proust il termine concreto la famosa Madeleine è soltanto uno spunto perché la memoria rievochi diventa un oggetto evocativo per Ernaud no l'oggetto rimane lì ancorato nella sua realtà non c'è nessuna evocazione né rievocazione o meglio non c'è una rievocazione volontaria da parte di chi scrive c'è invece secondo me è fortissima da parte di chi legge leggendo gli anni non è possibile che non vengano suscitati nel lettore i ricordi ma anche leggendo le genome ci sono moltissime considerazioni sensazioni che coinvolgono ed è una cosa fortissima perché in lei non c'è nessuna passione e la passione invece viene secondo me fortemente evocata fatta nascere in chi legge passione che può essere nel caso di Andrea terribile di dolore dolorosa dolorosa però io l'ho vissuta molto diversamente comunque è vero è una scrittura estremamente coinvolgente vorrei fare un esempio di quanto non siano evocative ma forti le parole di Ernaud ecco come viene annunciata dalla madre la morte del padre mia madre è comparsa in cima alle scale si tamponava gli occhi con un tovagliolo che probabilmente aveva portato con sé quando era salita in camera dopo pranzo con voce neutra ha detto è finita che cosa c'è di più reale di un tovagliolo usato con il quale si tampona gli occhi per le lacrime su un marito appena morto e sono presenti anche molte parole che potremmo definire basse ma anche qui anche in altri autori e visto che abbiamo tirato un ballo Proust andiamo avanti anche in Proust ci sono tante parole basse ma quando parla la governante lui subisce il fascino di queste parole perché non sono parole sue per Ernaud è diverso quando lei usa parole basse sono le parole della propria origine dei suoi genitori parole che lei da cui si è allontanata ma che sono pur sempre sue che lei rivendica come sue anzi direi che questa rivendicazione è fortissima quindi le usa con uno scopo ben preciso e comunque a ribadire il fatto che non possiamo parlare di una scrittura di Ernaud secondo me bastano due frasi tratte appunto dagli anni una è in conclusione si annienteranno ad un tratto le migliaia di parole che sono servite a nominare le cose i volti i volti delle persone le azioni e i sentimenti che hanno dato un ordine al mondo che ci hanno fatto palpitare e all'inizio dice dalla bocca aperta non uscirà nulla né io né me la lingua continuerà a mettere il mondo in parole nelle conversazioni attorno a una tavolata in festa saremo soltanto un nome sempre più senza volto finché scompariremo nella massa anonima di una generazione lontana io trovo ma non credo sia essere l'unica questa scrittura di una eleganza estrema ma appunto è un'eleganza fatta di parole essenziali dove non c'è nulla nulla da togliere e per finire è molto particolare anche il modo con cui viene con questa elegante prosa raccontata la storia cioè da un lato non c'è nessuna emozione nel racconto ma c'è una sorta di filo emotivo che lega questi volti in bianco e nero dei bisnonni non conosciuti poi via via le fotografie che si fanno a colori le fotografie degli ultimi anni nitide nella col passare della tecnologia che lei lascia così come sono ma che fanno nascere nel lettore una serie di immagini di ricordi e questo filo continuo che non si spezza neanche nella divisione in paragrafi è qualcosa di fortissimo che tiene il lettore avvinto dall'inizio alla fine è una prosa dicevo elegante che risente senz'altro della cultura profonda letteraria di Ernaud e che in italiano risente della splendida anche cultura del traduttore che riesce a mantenere questa adesione elegante alla realtà e direi che tutto questo che fa parte di un aspetto estetico che io ho cercato in Ernaud e che ho trovato e sono contenta di aver trovato non è però disgiunto da uno scopo che va al di là dell'estetica cioè Ernaud riesce a salvare dall'oblio la memoria dei piccoli dei poveri delle quelli che chiama le petit gens di coloro che altrimenti sarebbero destinati ad affogare nell'oblio nel nulla come gli umili di verga effettivamente facciamo vedere effettivamente non è che ci sia un collegamento strutto Tuttavia l'ultima opera, una delle ultime opere, forse l'ultima in effetti, di Agnerno è stata un piccolo film, ha recuperato dei video in Super 8, dei filmati in Super 8 che facevano parte della sua prima maturità, perché era il periodo in cui, per la prima volta, nelle case entravano le telecamere e si potevano registrare degli avvenimenti familiari. Allora, adesso Caroline traduce ciò che mi colpisce nelle primissime immagini scattate, l'effetto di evento teatrale procurato dall'arrivo della macchina fotografica in famiglia, un evento immaginato da mio marito che ha documentato i momenti in cui tornavamo da scuola e facevo la spesa al supermercato con i bambini. Stiamo vivendo un momento indicibile, allo stesso tempo felice e segnato da una certa violenza. Non sappiamo cosa fare di questa nuova durata strappata alla nostra vita. Alla fine, la telecamera si rivolge agli elementi dell'aredo, agli oggetti che un tempo avevamo scelto in un negozio di antiquariato, alle carte d'apparato pesante e chicca, a tutto ciò che ci classificava come una classe media recente. In breve, un giro nella cosa del proprietario, cosa che noi non eravamo, dato che quella casa era la residenza ufficiale legata alla professione di mio marito. Filippe Ernaud, il primo a usare la telecamera, ha sempre avuto questo ruolo, con alcune eccezioni, ruolo che gli ho lasciato senza potestare, per paura di essere maldestra nell'uso di quella tecnica che era costosa, e soprattutto a causa della separazione di genere dei nostri rispettivi ambiti, separazione stabilitasi all'inizio della nostra vita in comune. Anche l'ultimo brano o pezzo che vi abbiamo proposto ha questa caratteristica. In qualche modo c'è sempre un riferimento, come diceva Laura, al fatto di un'appartenenza sociale. Quando parla di sé parla con ironia dell'arredo della propria casa che rivelava in qualche modo un imborghisimento recente e delle scelte che in qualche modo facevano parte di un determinato accetto sociale. Ecco, questo è l'aspetto che a me colpisce sempre molto delle opere di Annie Ernaud, uno degli aspetti naturalmente. Io continuo a pensare che si tratti veramente di una socio-autobiografia e che Ernaud abbia preso spunto da un gruppo di intellettuali sociologi, soprattutto sociologi, che hanno scritto le loro autobiografie con questo intento di dimostrare che una rondine non fa primavera. Bourdieu, l'autobiografia di Bourdieu, per chi l'ha letta, è interessantissima perché in qualche modo vuole smitizzare sempre questo percorso attraverso le istituzioni francesi di coloro che riescono ad emergere dalla marginalità. Didier Ribon, che scrive «Retour à Reims» e Nicolas Mathieu, che scrive «Les fils devant eux». Sono tutti una serie di scrittori molto affermati, scrittori e sociologi, che però vogliono ricordare che il loro successo è il successo che non giustifica la violenza delle istituzioni in cui loro sono inseriti. Allora, qualcuno ha la domanda, qualche osservazione, qualche, diciamo, vabbè, lo dovevo fare, e però volevo ringraziare i nostri relatori, penso che anche Annie Erno sarebbe contenta di aver avuto dedicata una serata del genere così interessante, così intensa, veramente bella. Volevo ricordarvi che all'inizio del Salone Teresiano ci sono i libri di Annie Erno che appunto la Delfino ha portato, per cui se vi è venuta voglia di acquistare qualche libro, insomma, che non avete, che non avete ancora letto e così via, è possibile farlo. Vi ringrazio, è stato bellissimo vedere di nuovo il Salone Teresiano strapieno e domani noi presentiamo un altro libro. E' il nostro, diciamo, saluto prima, diciamo, di questo piccolo ponte dell'Immacolata, domani presentiamo il Giardino d'Acqua di Pagani, e quindi, editore Ronzani, se volete, siamo qui alle 5. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.